Buonasera a tutti dal vostro corrispondente Guglielmo Antonio Lo Strippato che prima di intervistare un po' di personaggi si concede una tiratina salva immagine cocaina simpamina metredina e peperoncino di gallenna la ricetta vincente e intanto abbiamo qui niente meno che Giampiero Ventura Giampiero scusate intanto che qua mi squilla pure il telefono Giampiero pronto Tonino intanto Giampiero Ventura ci ha raggiunto al tele trullo buonasera Giampiero come pensa che si possa battere questo Genoa? Giampiero ci ha detto che la ricetta sarà quella di una marcatura tipica pugliese cartellate cime di rape e chi più ce n'ha come diceva il fesso di Barletta chi più ce n'ha più ce ne metta buonasera a tutti ciao